Siele, Siele, purtroppo non posso venire a giocare oggi. E perché? Mi manchi il respiro. Che succede, Camine? Non mi sento molto bene. Camine, che fate i capelli? Una malattia rara. Non ti preoccupare, te fotte. Camine, guarda! Ma perché ti sei tagliato i capelli? Per farti compagnia, Camine. Ti voglio tanto bene, Siele. Anche io, Camine. Signora, signora, dov'è Camine? Tesoro, tieni. Carmine mi ha detto di darti questo. Continuato di biettino di Instagram.